L'Ocse ha lasciato invariata la previsione di crescita del PIL dell'Italia con un più 0,7% nel 2024 e più 1,2% nel 2025. In particolare, secondo il World Economic Outlook, le rigide condizioni finanziarie, l'erosione dei redditi reali dovuta alla modesta crescita salariale in un contesto di inflazione elevata e la graduale eliminazione del sostegno fiscale eccezionale legato alla crisi energetica potranno pesare sui consumi privati e sugli investimenti. Nel 2024 questi ostacoli saranno compensati solo in parte dai tagli temporanei alle imposte sul reddito e sulla previdenza sociale e dalla prevista ripresa degli investimenti pubblici relativi ai fondi Next Generation EU. Si prevede che l'inflazione di fondo diminuisca gradualmente nel corso del 2024 sulla scia dell'aumento della disoccupazione e della moderata crescita dei salari. Nel 2025 il sostegno ai redditi reali delle famiglie, il previsto aumento degli investimenti pubblici e il rafforzamento delle esportazioni determineranno una lieve ripresa dell'attività nonostante la modesta stretta fiscale. Il principale rischio al ribasso per l'Italia è che il ridimensionamento del super bonus inneschi una contrazione maggiore del previsto negli investimenti immobiliari.